Buonanotte dall'Arcangelo Raziel. Comprensione spirituale. L'Arcangelo Raziel ti sta comunicando informazioni e simboli esoterici per aiutarti a comprendere le verità spirituali. La tua comprensione spirituale si eleva a un livello superiore man mano che ti apri a nuovi modi di vedere la tua vita. Tieni la mente aperta e lascia andare i pensieri e le illusioni limitanti. Presta attenzione ai segnali ovvero alle informazioni che ti arrivano tre volte o più. Nota le forme geometriche e i simboli che recepisci con la vista fisica e la visione psichica. Sappi che l'incremento della tua consapevolezza può comportare cambiamenti nelle tue relazioni e nei tuoi obiettivi professionali. Io ti guiderò in questi cambiamenti affinché la tua vita possa rispecchiare le esperienze interiori. Collabora con l'Arcangelo Raziel essendo il mago e l'alchimista del regno degli Arcangeli. Raziel ci aiuta a comprendere concetti che sfuggono alla logica comune, espande e mette in discussione il modo di pensare abitudinario portando alla guarigione. Se desideri una profonda comprensione spirituale chiedi a Raziel di entrare nei tuoi sogni. Insieme a lui compirai un viaggio dell'anima nei luoghi del sapere in cui Raziel ti aiuterà a scoprire segreti e verità nascoste. A risveglio forse non ricorderai o non comprenderai del tutto gli insegnamenti ricevuti ma la sua conoscenza resterà per sempre impressa nel tuo subconscio e da lì ti guiderà nel corso della giornata. Vi auguro una buonanotte.